Soren e Klaus componevano delle canzoni per bambini E poi? Poi hanno conosciuto René e hanno cercato di comporre un... La storia è esattamente al contrario, ma adesso stai tranquillo perché te la racconteranno proprio loro Sono con noi gli Acqua! Allora, Lene Nistrom, figlia di un generale dell'esercito norvegese Era una ragazza dal carattere molto forte e molto sicuro A un adolescente, Lene, parte e se ne va a Palma de Mallorca Il suo sogno era di diventare o guida turistica per girare il mondo, oppure una musicista Lei va a Palma de Mallorca e lavora, ragazzina giovanissima, in una scuola guida Poi nel 95 ritorna in Norvegia You came back home in 1995 1994, actually 1994, è tornata nel 94 And you met, for first, René I met René a bird, we'll work with the same bird Yes, and I will explain it in Italian Allora lei un giorno prende un traghetto da un fiordo all'altro della Norvegia E incontra René che faceva il DJ su questo traghetto Lui le fa sentire una canzoncina e le dice Io la canterei dieci volte meglio E dopo René ha conquistato gli altri due componenti che sono Klaus e Soren Hanno formato il gruppo Aqua Hanno venduto 16 milioni di dischi solo con il primo disco che è Aquarium E oggi è un gruppo fortunatissimo Avete capito ragazzi? Volete fare... Enzo vuoi fare una domanda a qualcuno di loro? Come stanno vivendo il loro successo? Come stanno vivendo il loro successo? Come stanno vivendo il loro successo? È venuto molto veloce per noi Credo che è finalmente ora che possiamo rilassare un po' Settare e divertire tutto ciò che è successo Ha detto così... Let me traslare all the words I forget Sorry, I'm too quick Ha detto così che il successo, siccome è stato così rapido, così veloce L'hanno preso un po' alla sprovvista E adesso devono rilassarsi un attimo Pensare evidentemente per i piani futuri And what about you? About this fast success you've had? Yes, I was saying, it's all taking us quite by surprise Erano stati molto sorpresi? First of all, it's only supposed to get released in our own country, so like in Norway Ecco, loro pensavano di essere addirittura solo pubblicati in Danimarca E invece il successo è stato grandissimo Allora, ultima domanda a René What? Last question to you You have to learn Italian a little bit Deve imparare poi l'italiano Sì, sì Your next plans in next future Well, the next thing is going to happen is we have a Christmas record coming out Ah, non disco a Natale che esce And then we go to India the day after tomorrow E partono dopodomani per l'India And then we're going to go back in studio and prepare for the next album Ah, you're still recording in Danimarca? We are I think we're going to record in Scandinavia in general Ah, dice così che comunque continueranno a registrare in Danimarca o in Scandinavia E vanno in India dopodomani Ragazzi, siete contenti di questa... di queste notizie che vi ho dato degli acqua? Sì E allora vi possiamo salutare? Va bene Sì, li salutiamo, che dici? Ecco, aspetta un attimo perché loro dopo cantano Ah E allora? Ma forse gli basta così oppure vorresti vederli dal vivo? Io intanto mi sono tolti i baffi la missione Eh? Dal vivo Li vorresti vedere? Ma sì, mettili sulla macchina Andiamo E portali tutti quanti qua Tutti da Raffaella I will come here to listen to the song you're gonna sing later Thank you very much Bye bye See you later Alligator Ciao agli acqua Ecco ragazzi, forza, forza, scendete Tutti in fila Eccoci Eccoci Raffaella Forza ragazzi Forza, eccoli Siamo arrivati con i pante qui acqua Ecco Dai per i nostri ragazzi Tutti insieme, attenzione Rionitevi tutti qui Forza, avanti, 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 avanti Eccoci qua Li abbiamo presi in pizzeria, prego Salite sulla scala Ecco qui Basta, basta Mettiamoci tutti qui Siamo arrivati Ragazzi, sedetemi qua Forza, e sospiediti Fate come se fosse No, 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 no Alcuni dietro Ecco, tu sei piccolina dietro Vieni qua Sedetevi un pochettino più in qua Venite un po' più vicini Allora Questa è una bella sorpresa, no? Sì Te l'aspettavi di venire in studio? Domandiamo anche a loro Tu come ti chiami? Michele Michele Quanti anni hai, Giada? Otto Otto anni E tu ascolti la musica degli acqua? Senti, mi dici come fa un po' la melodia di Barbie Girl Vediamo se te la ricordi Non te la ricordi? Stop alle telefonate Ah, ecco Stop alle telefonate Adesso dovete smettere di telefonare perché spendereste dei soldini inutilmente Giada Chi è che la sa questa canzone? You're a Barbie Girl You're a body well Love in plastic La cansi bene Però forse è meglio Forse è meglio Che ve la dedichino I nostri amici Tratto dal CD Aquarium Infatti cantano Barbie Girl Yagua Bravissimi Really fantastic Veramente fantastic Contenti? Bene Questi erano gli energici Acqua Veramente My compliments You're really wonderful on stage Grazie Alene Fortissima You are great And your friends too